La questione di cementeria di Merone torna in consiglio comunale a distanza di un anno e mezzo dall'ultimo ordine del giorno. Ecco il sindaco Pietro Brindisi, un consiglio comunale aperto, aperto quindi a tutta la cittadinanza, aperto a quelli che sono direttamente coinvolti nella vertenza dell'Olcim. Quali sono le ultime novità? Le ultime novità sono che il contratto che hanno firmato i dipendenti di Olcim mira un pochino ad ammortizzare quelle che sono le questioni economiche e sociali, però la parte istituzionale, il comune di Merone, soprattutto il consiglio comunale, deve fare la sua parte per coinvolgere gli attrienti sovracomunali e quant'altro. Cosa vi attendete da questo consiglio comunale? Ci attendiamo prima di tutto la responsabilità da parte della provincia di Lecco, della regione Lombardia e dei comuni che si sono espressi nocava a tutti i costi. La partecipazione sicuramente è massiccia da parte di quelli che sono i dipendenti e che hanno fino a qualche tempo fa rischiato il posto di lavoro o un accorgimento quello della Cassa Integrazione che può soddisfare ma non fino in fondo? Beh, chi resta senza lavoro a 50 anni io dico che purtroppo diventerà un esodato perché il mercato del lavoro è molto chiuso, è chiuso per i giovani, figurarsi per i meno giovani. A suo parere il sindaco, il comune di Merone in tutti questi anni è vittima nei confronti della cementeria o parte in causa dal punto di vista positivo? No, non è vittima. La cementeria è stata una grande azienda, è una grande azienda che produce cemento e vogliamo che continui a fare questo, però con il comune si è comportata sempre in modo serio ed elegante. Cosa ne sarà adesso dell'intero stabilimento? Eh, questa è una bella domanda. Abbiamo già un'aria depressa, noi quella dell'Asperi che è vicino al Corazziere. Non vorremmo che un'altra area industriale venisse così abbandonata. E che garanzie ci possono essere? Queste purtroppo non ci sono garanzie. L'azienda continua a dire che manterrà l'attività produttiva e commerciale nel sito di Merone, però il tempo ci darà se questo è vero. Che rapporti ci sono con la proprietà da questo punto di vista? Ma sono buoni, ci siamo incontrati anche settimana scorsa con l'amministratore delegato, il dottor Corpina. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere qui e mi sembra che istituzionalmente i rapporti ci sono. Loro continuano a mantenere fede a quelle che sono le premesse e le promesse per pagare quello che devono al Comune di Merone. Vabbè, cosa si potrebbe fare? Io lo dico qui perché effettivamente non è una novità. Potremmo vedere di convertire i bruciatori, il forno stesso, alla produzione di energia. Perciò la mia introduzione era questa idea, queste novità di commutazione del corso. Del resto, chi venga. Assunta Chiusolo è del sindacato Costituzioni della CGL, presente in Consiglio Comunale a Merone questa sera, in rappresentanza del sindacato in compagnia sicuramente di tanti dipendenti che stanno ancora sperando per una vertenza sicuramente positiva nei confronti della cementeria. Allora, speriamo che sia positiva. Sicuramente è il cammino ancora lungo. Abbiamo realizzato un accordo con le altre organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con i colleghi, un accordo che garantisce due anni di ammortizzatori sociali. E' stato ratificato questo accordo presso il Ministero del Lavoro di Roma e perlomeno garantisce un ammortizzatore sociale, una rete di sicurezza per 24 mesi. Sicuramente la risoluzione finale è molto molto lontana, perché l'azienda è comunque decisa, questo ormai fa piano, c'è un suo piano industriale, quindi non tornerà indietro, è decisa di trasformare la produzione in un centro di macinazione, quindi i forni comunque verranno spenti. L'attività sarà completamente diversa e il numero dei dipendenti sarà decisamente inferiore. Quindi siamo partiti a gennaio con 180 esuberi, ora non saranno più 180 esuberi, perché grazie a questi ammortizzatori molti andranno magari in pensione, avendo avanti due anni di cassa più tre anni di mobilità. Però sicuramente sarà un organico molto molto limitato. Come giudica questo invito da parte dell'amministrazione comunale e del Comune, un consiglio comunale aperto? Molto bene, perché in effetti dobbiamo dire che il sindaco e anche la cittadinanza ci ha sostenuto in questa vertenza, vuoi perché sul territorio è una delle aziende più significative, sicuramente più significative. Ha anche una tradizione di più di 80 anni, quindi fa parte del tessuto vivo di Merone e d'intorno dell'Erbese. Quindi fin dal primo momento il sindaco ha dato tutta la disponibilità e la solidarietà ai lavoratori della Olcim e sostegno alle organizzazioni sindacali che hanno in qualche maniera cercato di costruire un percorso perlomeno, non dico chiaramente condiviso, perché non può essere condiviso quando si va a parlare di licenziamenti, però qualcosa che possa far comunque sperare in un domani, dovendo magari anche cambiare il mercato, vedere che cosa si potrà fare di questa cementeria anche se non produrre cemento. Noi vedremo come affrontare la situazione.